Siamo qui ad Erbilla, la cittadella, con Pia Melinari, responsabile dell'arte e della creatività, per dare una mano a questo popolo, ai ghiracheni, al cortis del miracheno, per restaurare questo gioiello, patrimonio dell'umanità. Eccolo qua. Siamo alla cittadella, qui a Erbilla. Siamo dove? A Erbilla. A Erbilla. Nella cittadella. Nella cittadella che ci mancava a noi, sai? Sì. 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 Siamo a Erbilla nella cittadella, con la voce del Muezzini. Sì. 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 Siamo in un centro commerciale a Erbin Grazie